Buongiorno a tutti e ben ritrovati in questo nuovo video. Come al solito andiamo a intrufolarci nell'isola dei famosi per cercare di capire cosa è successo, tipo Elena Prestes e il messaggio che c'è stato verso Silvio Berlusconi direttamente dall'isola. Durante la quarta puntata del reality show la bellissima Naufraga ha deciso così di mandare un abbraccio, ma un abbraccio very 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 special proprio al leader di Forza Italia, da inizio aprile che sappiamo essere ricoverato al San Raffaele di Milano. L'uomo infatti si trova ancora nel nosocomio a seguito di alcune complicazioni della leucemia cronica di cui purtroppo soffre. Per il momento i medici non hanno autorizzato le dimissioni e proprio per sicurezza, sapete, sempre meglio essere cauti in queste circostanze. E proprio in questi giorni Berlusconi è apparso in un video destinato alla convention proprio del partito. Ma tornando all'isola dei famosi, Elena Prestes con questo gesto ha fatto molto parlare di sé, soprattutto fuori dai confini onduregni. La donna infatti, durante la serata, è finita in un brutto pasticcio e creando grossi malumori tra gli altri naufraghi. Tanto per cominciare sembra anche che l'amicizia tra lei e Cristina Scuccia sia già finita, manco il tempo di farla cominciare. Tuttavia, il momento davvero topico della serata è arrivato alla fine della puntata, quando in zona nomination ha chiesto a Hilary Blasi qualcosa di mai successo prima. Chiaramente tutti si aspettavano di sentire parole d'affetto verso qualche suo familiare e invece no. La modella brasiliana ha fatto una domanda precisa e l'oggetto della discussione era proprio lui, Silvio Berlusconi. Ha chiesto a Hilary Blasi, in evidente imbarazzo, vorrei fare una domanda sul fuori. Sì, volevo chiedere una cosa sull'Italia. Posso farla quindi? Voglio sapere se Silvio Berlusconi sta bene. Sì, allora sono contenta. E il ragazzo, dallo studio di tutta risposta il giovane ha letto una poesia, scritta in portoghese, dedicata alla sua compagna, anche a me manca moltissimo. Mi manca tutto di lei, il suo sguardo, i suoi abbracci, le sue pazzie e la sua presenza. Voglio dirle di andare avanti così perché sta facendo bene, io l'aspetto fuori e sono molto fiero. Più tardi, Elena, incalzata da Vladimir Luxuria ha invece parlato del suo rapporto con Luca Vetrone. Con lui mi trovo molto bene ed è simpatico. Abbiamo avuto un piccolo litigio, ma per una questione tecnica. Nulla di grosso e infatti abbiamo chiarito. Se il mio ragazzo deve essere geloso? No, sono cose diverse. A me Carlo manca tantissimo. La sua voce, le sue parole, penso a lui. Cari amici, per questo video è tutto, vi ringrazio per la visione, mi raccomando lasciate il vostro segno qui sotto, un bel like e se non siete iscritti iscrivetevi al canale oppure seguite la pagina, è tutto gratis. Vi ricordo che in questa pagina si parlerà di gossip tv, spettacolo, politica, sport, curiosità e tanto altro. Detto questo vi saluto, mi raccomando vi aspetto al prossimo video, ciao, un saluto da Max.